Bene, allora siamo qui tutti quanti riuniti per celebrare questo plenilunio. È il primo plenilunio che celebriamo dalla Scuola di Sintesi Evolutiva, quindi dalla nostra piattaforma di e-learning, che sarà quella che ci accompagnerà anche per il prossimo futuro. E vorrei subito farvi notare, per cui ho messo questa immagine, della costellazione di Libra. Questa è la costellazione di Libra, proprio come si presenta nel firmamento, cioè nel nostro cielo, sull'eclittica, perché sapete che le costellazioni sono quelle più vicine all'eclittica terrestre, cioè a quella traiettoria di circonferenza che traccia la Terra, e sono quelle che sono state prese come segni zodiacali. Questa costellazione, che qui è tracciata nelle sue linee vettoriali, cioè le linee direttrici, vedete, è un po' obliqua rispetto alla classica idea che abbiamo noi della bilancia, ma dobbiamo pensare che quando gli antichi hanno tracciato con la loro visione nel firmamento queste linee per raggruppare delle stelle e quindi creare le nostre costellazioni, il cielo non era esattamente come era ora, come noi lo vediamo, e quindi ci fa comprendere come queste stelle che, collegate tra di loro, tracciano questo triangolo principale e poi queste due trecce quasi, da questa specie di cappello, che invece simboleggiano proprio la bilancia. Quindi la stella centrale superiore, l'ago della bilancia, e le stelle di lato, i due bracci con i piatti della bilancia. Ognuno dei due bracci è formato da tre stelle, tre stelle, e queste tre stelle, anzi veramente sono due stelle del braccio, perché la prima stella è quella che congiunge il triangolo e quindi quel triangolo, che possiamo interpretarlo anche come i tre aspetti del divino, Dio Padre al centro con le altre due persone della Trinità, o volontà, amore e intelligenza, da cui discendono i due bracci della bilancia. Quindi sono due stelle per braccio, a significare che la bilancia ha in sé una dualità di base che ha il compito di equilibrare. Dunque, già dalla composizione delle stelle della Costellazione, noi possiamo comprendere qual è il significato intrinseco di questa Costellazione. come tutti i pleniluni io ho una traccia che seguo e che è quella che è postata anche su Fraternity e la trovate appunto dove c'è il menu di crescita e quindi trovate sempre il segno con il suo testo di accompagnamento che è il testo proprio che serve poi anche per la meditazione e che noi utilizziamo proprio per i pleniluni. Allora, adesso leggerò questo testo, una parte, e poi commenterò. Ci sarà l'ultima parte che riguarda proprio la vera meditazione del plenilunio. Allora, introduco questo testo che poi posterò nella cartella e che voi potete trovare su Fraternity, ma magari poi vi invio. Libra la bilancia. Scusa? C'è qualcuno che stava parlando? Non ho capito? No. Ah, Nancy solo che ci ha... Aspetta, adesso silenziamo il suo microfono perché così... Perché non riesco a silenziare? No. Perché non riesco a silenziare il microfono di Nancy? Ah, questo è... Ah, no. Perché Nancy si è... Hai ragione, scusa, perché Nancy è collegata con la cuffia. Ok, perfetto. Allora siete già tutti quei microfoni silenziati. Stavo dicendo, quindi, Libra la bilancia è ovviamente il segno di equilibrio, di attenta valutazione dei valori, quindi legato anche alla misura ed è la giusta parità tra gli opposti mediante l'epo-utilizzo della mente analitica, equilibrante. Quindi già comprendiamo che già questo segno ci parla di un archetipo, quello di ordine, a cui è legata la bilancia, perché è legata anche alla giustizia, lo vedremo dopo, ma ci parla anche dell'archetipo di conoscenza. E tra questo archetipo di conoscenza e quello di ordine trovare il giusto equilibrio. La bilancia governa la professione legale e mantiene l'equilibrio tra il cosiddetto giusto e sbagliato, quindi tra le principali coppie di opposti, fra negativo e positivo, e anche fra est e ovest e non nord e sud, perché la bilancia è orientata nord-sud e quindi i due bracci pendono tra est e ovest. Questo è interessante. Quindi ha già un suo allineamento principale che è quello specifico, l'allineamento polarizzato di nord-sud. Il suo fulcro sta a nord e il suo piede sta a sud, mentre i due piatti sono quelli che oscillano e oscillando devono bilanciare l'est con l'ovest. Ora, per chi non conosce bene i punti cardinali, o meglio il significato esoterico dei punti cardinali, occorre comprendere che l'allineamento nord-sud è l'allineamento originale, anche quello dell'asse terrestre, anche se ha subito, diciamo, una lieve inclinazione. Mentre i punti est e ovest, che sono quelli che riguardano il nostro andare per il mondo, perché generalmente si va o verso est o verso ovest, riguardano due opposti molto precisi. L'andare verso est è andare verso il proprio sé, ritrovare il proprio sé. pensate per noi occidentali i viaggi verso l'India, dove si va proprio a ritrovare il sé, perché l'India per noi occidentali è la culla del sé divino, è la culla della spiritualità. Mentre andare verso ovest, sempre per noi occidentali, perché siamo adesso il punto di riferimento, è trovare la personalità. Riflettiamoci un attimo su questo concetto. È importante trovare la personalità per poi ritrovare l'anima. Dunque, canonicamente parlando, tutti i viaggi che noi facciamo fino all'età della maturità dovrebbero essere indirizzati verso ovest. Pensiamo al cammino di Santiago. Il cammino di Santiago è principalmente il cammino per scoprire se stessi nella personalità, perché è un cammino fatto di fatica dove bisogna camminare, dove bisogna allenare il corpo a un certo ritmo, quindi la personalità. Il cammino di Santiago serve a disciplinare la personalità. E una volta fatto quel cammino allora si può intraprendere il viaggio verso est alla scoperta di chi siamo realmente della nostra essenza animica. Dunque andare troppo presto verso il cammino di Santiago a percorrerlo non è appropriato da un certo punto di vista, mentre nella età superata l'adolescenza sì, quindi dai 20 ai 40 anni ci aspetta il cammino di Santiago e dai 40 in avanti il cammino verso Oriente. ci avevate mai pensato? E questo eppure è una grande verità e i due cammini, quello occidente e quello oriente sono stati creati per noi, per l'Europa, per la culla della civiltà proprio per addestrare da un lato la personalità e dall'altro ritrovare l'anima. Libra ci parla anche di questo, ci parla soprattutto di questo. Non si può trovare il centro se prima non si sono esperite le due polarità, i due opposti di base. Solo così possiamo ritrovare il centro e far sì che quei piatti di Libra trovino pace in una perfetta parità. Dunque, proseguiamo con questa lettura perché il tempo avanza. proprio come stiamo cercando di eliminare la violenza dalle nostre relazioni nazionali e proprio come chiaramente oggi appare privo di successo il sistema di pene drastiche nella prevenzione del crimine e nel dissuadere le persone da un irrefrenabile egoismo da cui ha origine ogni delitto e proprio come l'atteggiamento sociale in antitesi alla posizione antisociale di tutti i violatori della legge è visto come desiderabile e viene insegnato nelle scuole e proprio così comincerà ad emergere nella coscienza pubblica l'idea che promuovere giusti rapporti rafforzare l'autocontrollo e incrementare l'altruismo che sono sicuramente il fine soggettivo e spesso non realizzato di tutte le procedure legali quello sarebbe il fine della legge e della giustizia rappresenta l'approccio necessario per i giovani la chiave di questa crescita individuale ma anche nazionale è coltivare l'innoquità riflettiamo su questo denso concetto l'innoquità non è né in attività né in azione è una condizione positiva di equilibrio perfetto un punto di vista compiuto e di comprensione divina l'innoquità implica sia la conoscenza della natura dell'anima unica dell'umanità che la comprensione della legge di rinascita mettendo insieme l'innoquità e la legge di rinascita comprendiamo come tutti gli accadimenti si possono equilibrare entro di noi e soprattutto non ci sentiamo giudici di nessuno poiché la legge di rinascita e del karma ci fa comprendere come ciascuno di noi si trova esattamente nel posto che può occupare e che attraverso la comprensione di ciò che gli accade riuscirà a riequilibrare i piatti e quindi a sciogliere il karma necessario per questa incarnazione questo è il vero senso di Libra della bilancia che è il simbolo della giustizia vedete la giustizia è raffigurata cieca e in questo pensiero c'è anche la spiegazione di ciò e proviamo a esplorare per un attimo il mito che c'è dietro a Libra e che è legato alle 12 fatiche di Ercole come sempre nei pleniluni noi partiamo dal concetto della costellazione il concetto intrinseco poi passiamo alla mitologia riguardo a Ercole e alle sue fatiche Ercole è il discepolo il pellegrino che sta compiendo il suo viaggio e dunque Ercole apprestandosi a catturare il cinghiale di Erimanto questa è la sua fatica in Libra non sapeva che avrebbe dovuto affrontare una duplice prova ecco i due piatti della bilancia la prova di una mancanza di amicizia e quella di un indomito coraggio Ercole afferrò il cinghiale per le zampe e lo costrinse a camminare questa è anche una rappresentazione simbolica dell'anima che dirige il corpo non ancora guadagnato e non ancora avuto in suo possesso come quando lo vediamo nelle corse dei maiali li si prende per le zampe di dietro e si cerca di farli avanzare è un po' goffa quella corsa sia del maiale che anche del pastore del maiale diciamo il guardiano del maiale che cerca di spingerlo in una direzione ma un po' goffamente la bilancia ci presenta molti paradossi e segna gli estremi a seconda se si gira per la via usuale o per la via invertita del discepolo che sapete compie il cammino al contrario nella direzione opposta di quella dei segni zodiacali mentre l'aspirante invece la compie nel senso giusto perché il discepolo in qualche modo deve andare controcorrente per guadagnarsi una visione duplice per correre in un senso e poi nell'altro allora solo così si ha la visione dei due opposti e quindi li si può fondere insieme dunque i paradossi della bilancia è il primo segno che non abbia simboli umani né animali eccetto la figura della giustizia che tiene la bilancia ma la figura della giustizia è una donna bendata come dicevo poc'anzi ovvero cieca e di che cosa è cieca a che cosa è cieca alle cose esterne e cieca alle cose del mondo ma rivolta all'interno dove è la vera giustizia come quando noi chiudiamo gli occhi e possiamo così ascoltare il cuore perché è lì dove si compie la giusta parità è lì dove si trova il centro del fulcro della bilancia è lì dove si riesce a porre in pari a quei piatti perché si ascolta la legge divina e non la legge umana dunque si entra nella prova della bilancia dopo il segno di calma scusate dopo il segno della vergine con la coscienza cristica che urge nel cuore e nella mente ecco ad occhi chiusi noi troviamo il cuore noi lo ascoltiamo e dopo Virgo che ci ha rappresentato la bellezza anche la bellezza delle forme ora è Libra attraverso la quale dobbiamo trovare l'equilibrio tra spirito e materia tra causa ed effetto tra l'essenza e la sua forma in questo segno di calma perché è un segno che ci porta all'equilibrio e quindi alla calma ci troviamo di fronte ai problemi del sesso e del denaro il sesso è il sacramento di unione il denaro è mezzo di scambio entrambi possono essere usati a fini leciti oppure illeciti in modo corretto o sbagliato la bilancia può oscillare dalla stupidità alla saggezza dal pregiudizio e dalla parzialità alla giustizia e al rigore e soprattutto attraverso Libra noi possiamo trovare il giusto ritmo il ritmo che è fatto di pieni e di vuoti è fatto di sopra e di sotto di quella giustezza e misura di pesante e leggero pausa e suono e allora su questa ricerca del giusto ritmo concludiamo con la nostra meditazione di Libra chiudiamo gli occhi e lasciamo che il cuore ci porti oltre le nuvole in quello spazio che noi chiamiamo firmamento che risplende di volontà di amore e di intelligenza cioè di verità di bene e di bellezza possiamo comprendere dai due pesi della bilancia che sono anche due suoni due note da accordare che sono dapprimi in rapporto con la forma sono in rapporto con le esperienze della vita legate alla sfera del desiderio quindi alla sfera emotiva eppur necessarie al completamento della personalità una volta esplorate queste scelte poiché Libra ci porta a scegliere l'una o l'altra parte per poi trovare il punto di equilibrio ci sono le scelte delle forme e ci sono le scelte quindi legate alla quantità e ci sono le scelte associate alla qualità queste seconde scelte sono prerogativa dell'anima e l'anima chiede di dare spazio a queste scelte di dare voce di dare suono a queste scelte intime scelte della nostra vita quindi il bisogno di avere cede il passo alle necessità dell'essere al bisogno di stabilire nuovi equilibri basati sui valori sui valori sui valori spirituali ed essenziali ciascun valore e noi lo sappiamo lo sappiamo bene perché li stiamo percorrendo ciascun valore è una qualità dell'anima che alita per essere per essere espressa alita entro di noi entro la nostra personalità così come il soffio vitale dello spirito che alita entro di noi affinché noi possiamo sacralizzare sacralizzare la vita entro la forma la via di mezzo la via del mediatore è la via regale è la via della coscienza il grande mediatore tra anima e personalità ed è la via dell'anima il mediatore tra spirito e materia dunque uniamo in noi mediatori la mediazione suprema dell'anima per raggiungere la meta l'essere umano deve passare attraverso il riconoscimento della dualità è essenziale non si può raggiungere il centro e quindi la sintesi se non si sono percorsi gli opposti questo è il concetto potente di base di libra questo concetto è in noi luce e ombra sono sempre insieme ma è al mediatore che spetta conoscere e sapere quando utilizzare l'una e quando ha bisogno dell'altra poiché entrambe sono utile sono utili all'essere umano la luce serve per redimere il male ma il male serve a far sì che il bene trionfi senza quel contrappeso il bene non emergerebbe in superficie ed entrambi fanno parte dell'essere umano a noi stabilire quando l'uno muove l'altro affinché il movimento avvenga costante e dinamico il discepolo non ha paura del lato in ombra il discepolo entra nella propria ombra con la fiaccola del conoscitore affinché attraverso quell'ombra possa conoscere tutti i risvolti di sé e dunque tutte le sfaccettature per poi metterle a frutto da conoscitore della luce così ciascuno di noi conosce chi realmente è ciascuno di noi svela dal mistero il proprio inconscio e lo porta alla luce della saggezza la luce della saggezza rischiara il cuore la mente rischiara e porta freschezza nelle nostre azioni equilibra gli opposti e rende ogni giorno un giorno da essere da essere vissuto appieno poiché attraverso la saggezza che è la mediazione dell'anima nelle vicende umane questo è amore in azione scopriamo il bello che c'è in ogni cosa e ricordiamoci che oggi ho sentito uno strano concetto di armonia ma ci può stare anche un concetto di cosmo da cui traspare quell'armonia il cosmo è uno spazio ordinato in cui gli opposti trovano posto ma l'armonia è l'intreccio di quegli opposti l'armonia è relazione è una relazione che avviene dopo che l'intelligenza ha collegato quegli opposti opposti quei due opposti l'intelligenza collega gli opposti l'armonia fa sì l'armonia che è una qualità dell'amore fa sì che dopo che siano collegati quegli opposti li possiamo comprendere poiché l'amore è la qualità della compenetrazione non solo dell'unione ma di un intreccio che riesce ad accogliere in sé tutti i collegamenti tutti i legami tutte le connessioni del cosmo e anche in questo Libra che suggella l'ordine ha il suo compito l'ordine il ritmo entro lo spazio infinito della creazione e suggeriamo questo momento celeste con la grande invocazione recitiamola insieme aprite pure i microfoni dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca luce gli elementi della luce scenda luce sulla terra dal punto di amore entro il cuore di Dio affluisca amore nei cuori degli uomini possa Cristo tornare sulla terra dal centro dove il volere di Dio è conosciuto un proposito guidi piccoli voleri degli uomini il proposito dei maestri che i maestri conoscono e servono dal centro che vendono il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta di cui il mare risiede e luce amore e potere e l'uomo ristabiliscono il piano di amore sulla tua all'uomo o o o o o o o o o Chiudete i microfoni. I microfoni aperti hanno fatto un po' effetto di risonanza. Ma pensiamo che questa risonanza, che sembra un po' una confusione sonora, invece è quell'intreccio che proprio c'è nell'universo, dove le varie sfere sovrappongono i loro suoni, i loro saluti, i loro abbracci, i loro baci. E dunque prendiamo anche questa, che al nostro orecchio sembra una confusione, invece come la risonanza di tutte le armoniche delle nostre voci. Ed è stato un grande regalo. Ricordatevi, cogliete sempre il significato più vibrante degli accadimenti e troverete la soluzione. Sempre il significato che vibra di più ai vostri occhi e alle vostre orecchie. E così si manifesterà la soluzione a tutti i problemi dell'umanità e anche i vostri problemi personali. Bene, con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento perché ci troveremo fra poche ore con l'altro corso della natura dell'anima. Buon plenilunio a tutti. Grazie. Ciao a tutti, buon plenilunio. Ciao. Chiudo io. Buonanotte. Buonanotte. Sì, a dopo. Grazie, buon plenilunio a tutti. Buon plenilunio a tutti. Ciao. 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 Buon plenilunio a tutti.